Benvenuti in SoundCloud, la piattaforma only one per le spedizioni del tuo e-commerce. In questa demo ti mostreremo com'è facile iniziare ed esploreremo alcune incredibili funzioni che rivoluzioneranno il tuo processo di spedizione per sempre. Iniziamo! Per prima cosa, collega il tuo shop online con tutti i migliori corrieri. Nella piattaforma di SoundCloud vai su Impostazioni e poi Integrazioni. Seleziona la tua piattaforma e poi clicca per saperne di più. Stiamo usando Shopify, quindi siamo stati indirizzati all'App Store di Shopify, dove clicchiamo Add App per integrare SoundCloud con il nostro negozio Shopify. Ora colleghiamo qualche corriere, così possiamo iniziare a spedire. In Impostazioni, vai su Corrieri e prezzi. Alcuni corrieri sono già stati attivati. Puoi aggiungerne altri per offrire ai tuoi clienti più opzioni di spedizione. Con un piano SoundCloud a pagamento, puoi anche aggiungere il tuo contratto con il corriere e le tue tariffe o scegliere di combinarle con le nostre tariffe scontate prenegoziate. Usa il nostro calcolatore di prezzi per trovare le tariffe migliori per le tue spedizioni. Aumenta le conversioni aggiungendo metodi di spedizione flessibili nel tuo checkout. Attiva il Service Point Picker nelle impostazioni. Vai su Integrazioni e clicca Modifica. Seleziona Service Point e scegli i corrieri che vuoi includere nel Service Point Picker. I tuoi clienti potranno così scegliere facilmente il loro punto di ritiro preferito durante il checkout. Questo è quanto. Il tuo checkout è pronto e ottimizzato per convertire. Prossimo step. Inizia a spedire più velocemente con un processo automatizzato. Dopo aver connesso il tuo negozio online, gli ordini in entrata saranno automaticamente importati nella dashboard di SunCloud. Seleziona facilmente i tuoi ordini. Poi crea e stampa le tue etichette di spedizione con un clic. Assegna automaticamente le opzioni di consegna preferite ad ogni ordine usando le regole di spedizione intelligenti. Vai su Impostazioni, poi Regole di spedizione e clicca Crea nuovo. Dai un nome alla tua regola. Imposta le condizioni e le azioni. In questo caso, per ogni pacco di 2 kg o meno diretto in Polonia, spedisci con DHL Parcel Connect 0-2 kg. Tornando ai nostri ordini in entrata, il metodo di spedizione per la nostra spedizione in Polonia è ora cambiato da DPD a DHL Parcel Connect. Ottimizza il tuo processo di picking and packing con Pack & Go. Abbiamo sviluppato due modi di processare i tuoi ordini in modo più efficiente. Modalità scanner e modalità automatica. Puoi cambiare tra di loro nella sezione Impostazioni. Nella modalità scanner, stampa la tua picking list dalla panoramica degli ordini in entrata e scansiona il codice a barre per selezionare ed imballare gli ordini velocemente. Usa la modalità automatica per processare gli ordini on screen. Seleziona il tuo ordine e clicca Processa per stampare la tua etichetta e procedere direttamente con il prossimo ordine. Crea un workflow che si adegui alle esigenze del tuo team ed invia gli ordini in pochi minuti. Interagisci con i tuoi clienti dopo l'acquisto personalizzando le notifiche di tracking con il tuo brand. Per prima cosa, in Impostazioni, creiamo lo stile del tuo brand. Aggiungi le tue informazioni, il logo e i colori, in modo che possano essere usati nelle notifiche di tracking. Ora, salva il tuo brand e vai su Impostazioni, Track & Trace. Invia il messaggio giusto al momento giusto con le e-mail di tracking multilingua automatizzate, completamente personalizzabili, in base alle tue esigenze. Configura una tracking page brandizzata e aggiungi un banner promozionale o il tuo feed di Instagram per ingaggiare i tuoi clienti mentre danno un'occhiata alle novità sul tracking. Ecco fatto! Rendi visibile il tuo brand anche dopo il processo di acquisto. Prossimo step. App. Incrementa la lealtà dei consumatori e la crescita con un'esperienza di reso flessibile. Attiva e configura il tuo portale dei resi in Impostazioni. Scegli il numero massimo di giorni, randi il tuo portale multilingua e seleziona svariati metodi di reso e rimborso. Decidi quale ragioni per il reso i tuoi clienti possono selezionare e scegli tra un'ampia varietà di corrieri. Salva le tue impostazioni e dai un'occhiata al tuo portale dei resi personalizzato. I clienti devono solamente inserire il loro codice postale e il loro numero di tracciabilità o il numero dell'ordine per scegliere quali oggetti vogliono restituire e per quale ragione. In base a quanto è configurato, i clienti possono decidere se ricevere un rimborso in denaro e in credito da spendere in negozio oppure scambiare l'oggetto con un altro oggetto. Possono scegliere se lasciare l'oggetto ad un punto di ritiro o se riportarlo ad uno dei tuoi punti vendita fisici. Clicca Conferma. E questo è quanto. I resi non saranno più un problema per non perdere i clienti anche quando un ordine non ha rispettato le loro aspettative. Ultimo, ma non per importanza. Con le Analytics avrai una visione chiara dei tuoi ordini e dei resi. Vuoi avere insights migliori per quanto riguarda ordini e resi? Usa la Dashboard Analytics per visualizzare i picchi negli ultimi 30 giorni, controllare quali corrieri vengono utilizzati di più e verso quali paesi si spedisce maggiormente. I numeri non mentono. Grazie mille per aver assistito alla demo. Noi lavoriamo a ciclo continuo sui nuovi aggiornamenti della nostra piattaforma e per lanciare nuove funzionalità ogni settimana, aiutando gli e-commerce come il tuo a crescere ogni giorno. Possiamo aiutarti! Grazie mille per aver guardato il video.